Il 7 maggio 1812 era l'anniversario dell'incorrazione di Napoleone e nel Regno d'Italia fu diffuso un editto per celebrare in pompa magna le vittorie dell'imperatore. Si doveva in particolare in tutte le chiese intonare un tedeum a questo proposito e il porta non si lascia scappare l'occasione di celebrarla a suo modo con un madrigale scritto appunto per questo, in occasione di questo tedeum. Carlo Porta, sonetto 41, in occasione del tedeum per i vittori del Napoleone, madrigale del 1812. Quando si accorge Gesù che in su la terra cantava nino spreta tutcanta perché l'aveva in guerra defese Napoleone, padron deca, che va ciapà tan cal che Dio ne guarda se non te ne salda. Le nancanurel dice che tutti costur mi pregavano di segreti e di fatto tra l'ultimpetta e adesso cantano per l'ubbier bim postur e mi servono in sci. Poc, poc, mi cala brusai tutti con la livrea in spalla. Infine, pensando e su errepia, convence che perdona, se sa che dal più almeno servitù già l'è tutta canaia buzzaronna. Grazie. 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 Grazie.